e ci sono la mina mevi che è la sorrellina del bordo è portata dalla margherita che è il papà del bordo ed ecco poi c'è anche la pezzoppa che è sull'automezzo che era sull'automezzo a contatto di Stappella e soprattutto anche se vicino ai 70 anni c'è la pezzina che è ho detto che noi non facciamo satira perché i politici si presentano in modo diretto a far satira politica te lo racconto poi e arriva la musica live in diretta della Paravoto Fraudolenta il repertorio come già abbiamo detto della Paravoto Fraudolenta che è nata nel 1998 da Ressandria e raccoglie dieci rimenti molto interessanti e si occupano di alla fine suonano insieme e fanno musica e 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 sempre in tema dell'Unità d'Italia, l'initazione della discesa dei Garibaldini in versione GOF, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E anche l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia. Ed ecco voi la storia fantastica della compagnia Ibrus Aker. Vai Marco che sei il primo! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! 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 Sì!